Non può esserci estate senza poesia. E così è tornato nell'estate in città del comune di Pordenone l'appuntamento con la festa di poesia nel chiostro della Biblioteca Civica, realizzato in collaborazione con Pordenone Legge. Ha preso il via anche la rassegna Cinema sotto le stelle, a cura di Cinema Zero in Piazzetta Calderari, con il film Cia 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 di Marco Risi, alla presenza del regista, che a quattro anni da Fort Apache ha realizzato un thriller noir con un cast che conta su Luca Argentero, Eva Erzigova, Pippo Del Bono e Claudio Amendola. A partire da domani sera, tutti i giovedì di luglio saranno vivacizzati da numerosi eventi che renderanno il centro storico uno spettacolo. L'assessore comunale Claudio Cattaruzza. Comincia domani sera con giovedì sotto le stelle il primo appuntamento di negozi aperti in città fino alle ore 23, quindi un modo per ritrovarsi ma anche per rivitalizzare quello che è il centro. Ci sono tutta una serie di attrazioni e di eventi culturali per cui l'invito come amministrazione comunale facciamo è quello di partecipare e di essere in tanti a questa prima iniziativa.